Salve, ho solo quattro minuti, quindi cercherò di raccontarvi un po' gli ultimi sette anni in maniera abbastanza stringata. Voglio partire dandovi una fotografia della situazione attuale del pianeta. Al momento ci sono cento conflitti in corso, la maggior parte dei quali in Asia o in Africa. Una persona su sette sopravvive con meno di due dollari al giorno e il 10% della biodiversità che conosciamo oggi sarà scomparsa nei prossimi vent'anni. Insomma, non c'è bisogno che vi dica che la situazione è anche abbastanza drammatica. Però voglio darvi anche un altro dato che credo abbia il potere di cambiare radicalmente le cose. Ben il 62% della popolazione mondiale ha meno di 25 anni di età. Per la prima volta nella storia ci troviamo di fronte a un pianeta estremamente giovane, con tanto potenziale, spesso inesplorato e soprattutto grosse opportunità che fino ad oggi non erano possibili, ad esempio le nuove tecnologie. Su questi due assunti fondamentali e anche estremamente basici si basa il lavoro appunto di Education for Change, o IAC, un'organizzazione globale interamente gestita da giovani che offre ai giovani stessi la possibilità di diventare protagonisti attivi del cambiamento impositivo nelle proprie comunità. Come lo fa? In maniera semplice, offrendo corsi online gratuiti in metodologia peer-to-peer. Quindi giovani che insegnano ad altri giovani le basi dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile, del project management oppure del fundraising, della raccolta di fondi. Tutto questo contando che appunto IAC è oggi presente in 130 paesi del mondo e insegna a migliaia di giovani ogni anno partendo con 150 euro. Una cifra che insomma forse fa anche un po' sorridere perché 150 euro è poco più del prezzo di un paio di scarpe. Mi trovo a una conferenza proprio come questa quando ho avuto la mia idea e ho pensato appunto di tornare in Italia e proporla un po' in giro, sono passata da enti, da istituzioni, da università, ma mi si diceva sempre un po' la stessa cosa. Tu quanti anni hai? All'epoca ne avevo 22. Quindi mi rispondevano guarda se avessi magari 30 anni di più non avrei problemi a finanziarti, a 22 proprio non me la sento. Diversamente mi dicevano bella questa idea, assomiglia a? Ma in realtà niente, siamo i primi a fare una cosa del genere a livello globale. Quindi non siete la brutta copia di un'organizzazione americana o qualcosa di simile? Per il momento no. Allora dato che siamo in Italia mi parlate di fantascienza. Dopo sei mesi di porte chiuse in faccia ho deciso di lanciare questa organizzazione, quindi un'innovazione che dall'Italia arriva al resto del mondo e che dà appunto ai giovani l'opportunità di cambiare in maniera radicale le cose, dalla Colombia all'Uganda, dal Bhutan al Malawi. Se c'è una cosa che posso raccontarvi che ho imparato, mi manca pochissimo tempo, è proprio il fatto che ognuno di noi ha nel proprio piccolo l'opportunità di cambiare le cose e che non bisogna essere straordinari per fare cose straordinarie. Quindi insomma assolutamente ognuno di noi ha veramente il potere di attivarsi in prima persona e di cambiare quello che non va. E questo è un po' il lavoro che fa IAC in maniera molto semplice e molto diretta. Grazie.